Nel film da 0 a 10, Luciano Ligabue, il protagonista diceva io posso avere un giorno da 9 o uno da 4, dipende da come mi sveglio. Ebbene, questa frase serve per aprire quello che è il capitolo sul calcio mercato dei Cagliari che si è concluso ieri come tutto il calcio mercato internazionale. Ebbene, il mercato dei Cagliari oscilla tra quel 9 e quel 4, però non riesce ad avere una grande valutazione. Proviamo a vedere perché. Il mercato in entrata è da 6, per un semplice motivo, perché al di là dell'arrivo di Godin che comunque è un grandissimo arrivo, è un giocatore di grandissima esperienza, si è fatto vedere, ha segnato subito alla prima partita utile e quindi darà quel filo che serve a Di Francesco per guidare la squadra anche in campo. Però non basta, nel senso che il resto dei giocatori che sono stati presi sono dei giovani ragazzi che si devono fare, che devono fare esperienza, che devono imparare anche a giocare con lo stile di Di Francesco e sono tutti molto giovani, futuribili, però ancora non sappiamo quanto ci potranno dare. Sono ragazzi bravi perché abbiamo già visto Zappa, abbiamo visto Tramoni, abbiamo visto Marin, insomma tutti i giocatori che ci sanno fare col pallone tra i piedi. Però poi serviranno i risultati. La prima occasione purtroppo con l'Atalanta non è andata bene, quindi bisogna capire esattamente a che punto arriveremo. Quindi una sufficienza va più che bene. Una sufficienza che sarebbe stata qualcosa in più se fosse arrivato Nangolan, ma non solo, sarebbe stato qualcosa in più se fosse arrivato un centrocampista. Perché quello che manca al Cagliari, siamo molto corti a centrocampo. Quindi un Nangolan, un Mancusu, un giocatore comunque di esperienza che potesse essere qualcosa in più rispetto a Caligara, rispetto ai giovani che abbiamo, insomma. E nel momento in cui magari mancheranno i Rogue, i Nandez, ci troveremo con una coperta molto corta. E a questo punto sarà importante rientegrare giocatori come Bradaric, come Oliva, che sembravano sul punto di partenza, ma invece sono rimasti. La nota dolente invece è, per quanto riguarda il mercato in uscita. E' veramente una nota dolente perché Cagliari ha, a libro paga, 30 giocatori, circa. Ed è un bel problema. Se c'è una cosa che tutti insegnano una volta che bisogna fare mercato è che a comprare sono buoni tutti, però a vendere è molto più difficile. Ed è quello che è successo al Cagliari, che aveva almeno 6 giocatori in uscita e non è riuscita a piazzarne uno. Cepitelli, Cerri, Bradaric, insomma, sono solo tre, ma ce ne sono tanti altri che non siamo riusciti a dare nel mercato, che non siamo riusciti a piazzare. E ce li abbiamo ancora a Cagliari, per altri quattro mesi almeno, finché non arriverà a gennaio. Anzi, meno di quattro mesi. E quindi il voto che qua do è un quattro e mezzo, perché effettivamente era lì che bisognava far vedere di essere pronti a sfoltire la rosa e a dare a Di Francesco tutti gli equilibri necessari, perché poi alla fine quei giocatori che rimangono li devi fare allenare, gli devi dare magari un po' di spazio e la valutazione che hanno adesso non sarà la stessa di gennaio e quindi sarà ancora più difficile piazzarli, nonostante magari altre squadre avranno bisogno dei cepitelli, dei cerri e di tanti altri. Siamo riusciti a dare in prestito qua e là altri giovani, Ladinetti e tanti altri. Abbiamo dato De Iola, abbiamo dato Farias, però non basta. Sono troppi e veramente per l'allenatore sarà un bel problema. Quindi adesso vediamo come andrà la stagione. C'è la sosta, quindi questo momento di Francesco potrà lavorare con una parte del gruppo che non è partita per le nazionali e quindi vedere un pochino come sviluppare nuove trame di gioco in favore appunto della sua squadra, sperando che a partire da Torino ci sia un'escalation di risultati utili e si possa veramente risalire in classifica.